Cosa succederà all'asile di Teramo, Presidente? Che cosa prevedete per questa? Ritroverà le ali, perché le risorse delle quali ha bisogno un giacimento ospedaliero, tipo quello che si occupa di sanità in provincia di Teramo, sono le seguenti. Risorse organizzative, risorse programmatorie, risorse finanziarie, risorse normative, risorse anche professionali. Noi oggi abbiamo ricominciato con una risorsa professionale indiscutibile che ha nel suo cervello l'esclusività di una dedizione personale e professionale. Lui penserà in maniera esclusiva a fare questa funzione. So che lui ha già un contratto di tipo morale con se stesso, non dovrà incontrare negli orari serali nessun portatore di interesse, perché io ho rilevato anche un'abitudine di questo tipo, incontri serali con portatori di interessi, lui dovrà avere la maestria nell'attività di ascolto, nella elaborazione strategica, nell'assunzione dei dati, nella produzione di informazione, nella lavorazione di dati oggettivi che consentano la misurazione delle prestazioni di qualità. Come l'Avvocato Fagnano, come ha messo in evidenza anche Paolucci, ma con Paolucci e anche le altre persone di buona volontà del Governo regionale e del Consiglio regionale, l'Avvocato Fagnano costituisce un punto di riferimento anche di questa cultura della professione sanitaria che è nata, si è generata e si è coltivata anche frequentando il tavolo romano della sanità e il tavolo romano della produzione normativa. Siccome noi siamo sotto monitoraggio costante, come se avessimo un cruise, ci avvaliamo della intelligenza lavorativa di Fagnano e di quello che Fagnano metterà in campo nel seguito dello snidamento di altre bravure. Presidente, in campagna elettorale era stata promessa addirittura la riapertura del punto nascita di Giulianova, adesso invece si chiude anche quello di Ate. Questa è una maniera di edificare la casa partendo dalle tegole, noi dobbiamo invece edificare la casa partendo dalle fondamenta, noi vogliamo un lavoro compiuto, oggi è la prima regola e voglio rimarcare ad opera di Paolucci e della Giunta regionale, permettetemi anche del mio indirizzo, che per la prima volta il nome di un direttore generale viene presentato al Comitato Ristretto dei Sindaci per esaltare il fatto che non è cosa nostra il direttore generale, è cosa del territorio e della comunità, è una regola metodologica che fa anche la sostanza. Io ho fatto il sindaco super votato nella città e anche rivotato, ho assistito come ad una tragedia il fatto che da sindaco della città capoluogo di una provincia tutto sommato non odiata dai cittadini, leggere la mattina sul giornale il nome del direttore generale. Allora abbiamo voluto impiantare un'altra regola, il direttore generale viene presentato soprattutto al Comitato Ristretto dei Sindaci che rappresenta in maniera esponenziale il luogo della vita delle persone. Poi so che Paolucci ha avuto anche la cura di passare in prefettura dove ha incontrato il vice prefetto vicario per dialogare anche lì con lo Stato e poi oggi c'è questo incontro con la comunità del lavoro e poi dovrà parlare con tutte le persone che rappresentano dolore, progetto di vita di questo territorio. Insomma noi vogliamo che il direttore generale sia una risorsa di bravura, di competenza, di decisività per fare in modo che la sanità terramana continua ad essere il riferimento di eccellenza del passato. Io poi avrei un conflitto di interessi perché più di un mio parente è stato visitato, operato nelle strutture ospedaliere terramane perché qui ci sono tradizioni straordinarie di professionalità e di scientificità sanitaria. Io penso che il direttore generale con la capacità che ha di fare ascolto e di condurre in avanti continuerà ed eleverà questa bravura del terramano che fa salute. Grazie Presidente, dobbiamo entrare.